La Costituzione è una norma di scopo, è una norma programmatica, è sostanzialmente la norma che dice alcune cose. La prima, il popolo non è soltanto nazione, non è soltanto massa, non è soltanto classi. Il popolo è fatto di individui che sono persone. Primo punto. Secondo punto, è necessario che venga istituito lo Stato sociale, perché di fatto di questo si parla. La Repubblica rimuove gli ostacoli, vuol dire che lo Stato, repubblicano, istituisce una serie di interventi strutturali, sistematici, per eliminare le cause profonde, radicali, delle disuguaglianze che fanno sì che ad alcuni sia concesso, ad altri sia negato, l'accesso a una vita buona, a un progetto di vita in cui il soggetto trovi se stesso realizzato. Il concetto qui è differenze sì, disuguaglianze no. Questo è chiaramente l'elemento democratico, liberal democratico, personalistico democratico della nostra Costituzione ed è anche l'elemento statualistico. È chiaro che qui non si dice che l'economia ha in sé la capacità di far sì che tutti possano più o meno trovare un modo di vita soddisfacente. Qui si dice che ci deve essere un intervento politico esplicito, mirato, strutturale, strategico. Dunque, quando nel corso della nostra storia più o meno recente, è divenuto predominante l'idea che non lo Stato, ma l'economia sia il motore della società, il suo cuore, e che l'economia lasciata funzionare secondo i propri principi produce un equilibrio grazie al quale ciascuno è portato a vivere al meglio. Quando è diventato egemone questo modo di ragionare, è evidente che l'idea di implementazione della Costituzione, l'idea di piena realizzazione della Costituzione, ha perduto terreno. O meglio si è detto, la Costituzione si realizza da sola se funziona il capitalismo.